Ripeto, noi dobbiamo guardare domenica dopo domenica, domenica ci aspetta il Benevento, sappiamo che è una signora squadra con degli ottimi calciatori, degli ottimi singoli, che fanno paura davanti, soprattutto i nomi, una buona difesa, però siamo consapevoli che se siamo complici tra di noi e sappiamo essere squadra e gruppo possiamo far bene contro chiunque. L'abbiamo dimostrato domenica, dopo un mese, un mese e mezzo, proviamo a ripeterci domenica prossima. Questo volo si è caricato come un cittadino personale? Ma no, io resto sempre lo stesso, penso a bene della squadra, della Paganese, facciamo quello che ci dice l'allenatore, lottiamo sempre al meglio e cerchiamo di portare punti a casa anche domenica, poi si sa i conti si fanno a maggio, è inutile parlare ora. Chi temi di più del Benevento? Ma nessuno, è una squadra che si rispetta ma non fa paura a nessuno. Conosci qualcuno in particolare? Ha giocato con Siniscalchi, poi bene o male ho sempre affondato tutti, noi sappiamo che dobbiamo riscattare una deludente prova che abbiamo offerto all'andata, perdendo per 2-0. Adesso giochiamo in casa, in casa parte con la Nocerina che abbiamo giocato al campionato, non l'abbiamo mai fatto male, cercheremo di portare il fattore campo dalla parte nostra. Grazie. 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 Grazie.